Da Roma, Gabriele Fontana. E con noi questa sera il comandante Alessandro Pico, segretario generale della Federazione Marittimi, uno dei maggiori sindacati italiani dei marittimi. Buonasera. Buonasera. Allora, si aggravano, stando a quanto riferito anche dagli inquirenti, le responsabilità del comandante, rotta azzardata, ritardi nel dare allarme. Qual è la vostra posizione come sindacato su quanto accaduto? Noi siamo moderatamente cauti dell'esprimere giudizi affrettati, anche perché ci sono in corso due inchieste, una della magistratura e un'altra amministrativa da parte del Ministero. Diciamo però fondamentalmente che azzardata effettivamente è stata un po' la manovra per quanto siamo a conoscenza dei fatti che si sono tristemente verificati. Usiamo la parola azzardo proprio perché riteniamo che di notte non si possa così avvicinare alla terra firma una mastodontica nave, quale era la costa, insomma. Come ha detto oggi l'amministratore delegato di costa, un errore umano, tutta colpa dei comandanti? No, questo, ripeto, non ce la sentiamo perché la stessa costa armatori che vaglia i suoi comandanti come tutti gli armatori di questo mondo, prima di dare in mano un giocattolo del genere che, per quanto ne sappiamo, costa intorno ai 700 milioni di Euro, più il trasportato che è gente che paga il biglietto, più l'equipaggio che lavora sottopagato, insomma, ce ne vuole. Quindi non era un uomo che era al primo comando, la conosceva, la nave, quindi non era il primo giorno che faceva quella rotta, quindi presupponiamo che qualcosa di strano sia successo, insomma, perché probabilmente c'erano almeno altri due ufficiali, insomma, oltre ad avere marinai di guardia e quant'altro, insomma, ci sono almeno 5-6 persone di solito su un ponte di comando. Ci si interroga anche su questa corsa a costruire navi sempre più grandi, tecnologia certo avanzatissima, ma gestire un'emergenza su questi grattacieli viaggianti pieni zeppi di gente è complicato. Allora le chiedo, si è superato il limite? Credo di sì, il limite è superato. La nave sicuramente è una nave costruita in sicurezza secondo tutti quelli che sono i criteri di alta tecnologia e ingegneria, perché comunque non è che non c'è stata tecnologia e ingegneria in tutto questo. Purtroppo quando c'è troppa gente, è molto facile che poi può succedere di tutto, insomma. Cioè, navi così grandi sono un pericolo per la sicurezza? Secondo me, sotto l'aspetto umano, sì, possono dare tutto quello che vogliono di sicurezza, ma portare troppa gente e poi diventa difficile la gestione. Per quanto si possa essere brava, diventa difficile. Secondo me un poco ci dobbiamo fermare, perché si costruisce per mettere più gente a bordo e per fare business, è tutto qua, perché la nave ha dei costi per andare avanti e indietro, o è lunga 300 metri o è lunga 100 metri, più o meno il costo è uguale, è chiaro. Quindi se io posso portare più persone, guadagno di più e faccio quello che posso fare. Il comandante Alessandro Picco, segretario generale della Federazione Marittimi, grazie per essere stato con noi, buonasera.